Ciao, benvenuti a Cazzeggio Cataviotico Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Cataviotico Anche questa puntatona dal colore di retrocomputing Oggi parleremo di Sony Playstation 2 Cosa ci fa la PS2 Sony Playstation in una playlist di retrocomputing? Ecco, la console è relativamente recente PS2 fu posta in vendita nei primi del marzo del 1999 La risposta è semplice Questa cosina ebbe a vendere 140 milioni di pezzi Sì, avete capito bene Questa console di gioco ebbe a vendere 140 milioni di pezzi Sia più di 10 volte tanto quanto ebbe a vendere il mitico Commodore 64 In una playlist di retrocomputing Non potevo non ritagliare un piccolo spazio di retrocomputing A dei giganti commerciali come la PS2 con 140 milioni di pezzi Una console che a mio avviso non può mancare in una collezione di retrocomputing Un hardware da rintracciare nell'usato Perché con 140 milioni di pezzi venduti dal 2000 al 2013 Ecco, questo hardware ha conquistato una larghissima notorietà Alto spessore di mercato E con il tempo questa console sarà mitizzata da suoi utenti Così come i bravi boomers del 1970 Ebbero a mitizzare il Commodore 64 Cosa era la PS2 nel 2000? CPU in motion engine da 64 bit da 294 MHz 16K di case di primo livello 24K di case di secondo livello 6.2 Giga Flops GPU synthesizer da 147 MHz 4 Mega di drum con banda da 48 Gbps Rendering grafico di picco a 14.6 milioni di poligoni al secondo Memoria 32 Mega di R-Dram da 3.2 Gbps di transfer rate Suono stereo e campionamento audio a 48 KHz La console aveva in bando un DVD-ROM 4x che fondeva anche le capacità di un CD di 24x Due porte per la memory card Due porte USB 1.1 Uscita video composito e SCART 480i per NTSC e 576i in modalità balzeca Video a componenti da 720p e 1080i Alcuni modelli hanno una presa RG45 Ethernet Altri hanno una IEEE1394 Con e poi anche una presa infrarossa Un bel giocattolone potente, rumoroso, colorato Che non può mancare in una collezione di retrocomputing Per questa brevissima puntata è tutto Un saluto, ciao, alla prossima Con e più Solo E Water E her Evo